Alla promozione di Tony A Tony Inseguire i propri sogni è come giocare d'azzardo Che stai facendo? Oddio Esci di qua! Sì Dai! Al momento giusto bisogna essere pronti a mettere sul tavolo tutto quello che si ha Ti rendi conto che per colpa tu ho perso il lavoro? Guarda che ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque Brava Tony Stando attenti però Che non si stia inseguendo un'illusione No scusa Tony tu dipinge e non me lo dici Secondo me dovresti fare questo nella vita o perlomeno ci devi provare Dici sul serio Tu hai talento Ancora qui stanno questi quadri? Mettili in cantina Pure buttali Ma come buttali? Che festivo ti danno? Elisabetta è felice di fare la tua prima mostra personale Sei contento? Tanto Tu mi hai detto cazzate per un sacco di tempo Non volevo farti arrabbiare Addirittura è colpa mia Sì perché tu mi stressi Mi metti ansia con questa storia del negozio Vaffanculo Ci tiene proprio così tanto la sua carriera d'artista Più di ogni altra cosa Noi vogliamo farle una proposta Non parlare con nessuno di quello che è successo Ce la siamo vista veramente brutta Ciao a tutti